come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità o molto molto bene questo è uno dei video che mi piace tantissimo e questo video esce una massimo due volte la settimana e sapete perché mi piace beh l'avete visto dal titolo del video dalla copertina in questo video si parlano di tutti i pagamenti da parte dell'inps e da parte dello stato per tutto il mese di febbraio così oggi vediamo quando arrivano la pensione la naspi il trattamento integrativo assegno unico assegno di inclusione sfl reddito di cittadinanza sì perché come vi dico sempre del reddito di cittadinanza ne sentiremo parlare almeno fino a giugno di quest'anno e allora partiamo subitissimo con il video perché vi devo dare tantissime date tantissime scadenze e sapete che non voglio farlo diventare lunghissimo quindi partiamo subito dalla più semplice che è la naspi i pagamenti della naspi partiranno presumibilmente con la data calda dell'otto di questo mese e poi va avanti fino alla fine del mese domeniche escluse piccolissima informazione come sempre per quanto riguarda la naspi e cioè che questa la naspi spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se si presenta la domanda entro i primi otto giorni dalla data di cessazione e anche i pagamenti come vi ho detto a questo punto quindi vanno avanti fino a fine mese assegno unico universale il pagamento arriverà nella terza settimana di questo mese quindi i pagamenti segnatevelo saranno fatti in queste date 16 19 e 20 di febbraio diciamo che in linea generale comunque l'inps ha detto che vuole mantenersi in regola con i pagamenti quindi dicono che ci sono queste ulteriori date da considerare ci sono quindi due due strade da tenere conto prima allora dal 15 al 20 di ogni mese 15 20 di ogni mese per tutti quelli che non hanno subito delle variazioni nel calcolo degli importi rispetto alla messa d'età precedente seconda strada da seguire dal 20 al 30 del mese per quelli che invece hanno per quelli che hanno subito variazioni negli importi percepiti dovuti a variazioni per esempio nell'isè o nella composizione del nucleo familiare poi sempre dentro queste date dovrebbero in teoria dovrebbero essere compresi anche gli arretrati dei mesi precedenti infine sempre per quanto riguarda l'assegno ricordatevi che dal 2023 il rinnovo dell'assegno unico è automatico ma comunque resta obbligatorio per la famiglia rinnovare l'isè e comunicare eventuali variazioni che incidono sull'importo anche per eventuali aumenti perché bisogna rinnovare l'isè perché nel frattempo da un anno all'altro potrebbero essere cambiate le situazioni familiari o adesso parliamo di assegno di inclusione o questo benedetto assegno di inclusione vediamo un po le date calde di pagamento diciamo che queste quelle di febbraio non sono tanto date sconosciute anche perché ne abbiamo già parlato tantissimo negli altri video quindi in realtà cioè non è che vi sto dicendo niente di nuovo però per tutti quelli per tutti i nuovi iscritti o per chi eventualmente si fosse perso i video precedenti le due date calde sono queste qua il 15 e il 27 del mese poi sempre per quanto riguarda l'adi la presentazione della domanda all'inps ricordatevi che è solo il primo step quindi il primo passaggio per ricevere il sussidio perché oltre a fare domande bisogna anche iscriversi dentro un sito internet che si chiama sis e lo trovate su internet cioè vabbè per chi lo sa lo sa ovviamente ma io lo sto dicendo perché ancora ci sono persone che mi dicono dove vado a fare il patto di attivazione digitale all'interno del sis quindi all'interno del sis come ho detto si sottoscrive il patto di attivazione digitale e poi il pagamento dell'assegno parte dal mese successivo a quello in cui viene accettata la domanda piccolo piccola informazioncina dell'ultimo istante pare di capire pare di capire che l'assegno di inclusione non viene pagato finché il ministero del lavoro non fa le sue dovute verifiche all'interno del sis sul pad quindi pare di capire che è vero che sono sganciati perché la domanda si fa l'inps e poi il patto di attivazione digitale si fa il sis la domanda è inps e inps è l'altro e ministero del lavoro quindi pare che sia quasi vero e se non ci posso mettere la mano su fuoco però pare che sia quasi vero il fatto che in se può anche accettare la domanda accolta e tutto quanto ma finché non passa la domanda del pad al sis che i due poi combaciano pare che ritardi nei pagamenti adesso questa cosa qua non ne sono sicuro come vi ho detto io non ci mettere non ci metto ancora la mano sul fuoco però voci di corridoio stanno già dicendo che questa potrebbe essere una probabilità per cui le domande vengono ritardate ma 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 vi farò sapere più in dettaglio anche prossimamente sempre per quanto riguarda l'assegno di inclusione volevo rispondere a una domanda e la domanda è questa se presento la domanda di adi nei mesi di gennaio e febbraio quale ise devo utilizzare c'è stata una diatriba negli ultimi tempi soprattutto all'inizio di gennaio quando bisognava rinnovare l'isee e ma uno diceva una cosa l'altro diceva l'altra allora risolviamo sto problema qua hanno detto che in via del tutto eccezionale per le domande presentate fino al 29 di febbraio e in assenza di un ise in corso di validità per quanto riguarda l'erogazione quindi stiamo parlando del pagamento nei mesi di gennaio e febbraio ovviamente se ci sono requisiti e attenzione la verifica dei requisiti viene fatta con l'isee valido al 31 dicembre 2023 sempre poi facendo la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell'isee poi ovviamente nei mesi successivi quindi quando si farà poi a gennaio l'isee la verifica viene fatta poi su l'isee nuovo di gennaio o e parliamo anche un po di sfl supporto formazione lavoro me lo chiedete sempre in tanti non parli mai mi dite sempre non parli mai di sfl non parli mai di sfl e allora parliamo un po di questo benedetto sfl che ogni tanto parisce un po riappare non si capisce niente cerchiamo di capire un attimino le date allora diciamo che l'indennità pagata per il supporto formazione lavoro può arrivare ad avere parecchi ritardi e ce ne siamo ben accorti soprattutto a gennaio dicembre gennaio noi siamo benché accorti e chi può dire il contrario però per quanto riguarda il pagamento del contributo da 350 euro l'imps chiarisce che saranno pagati in presenza di una domanda con esito accolta salvo ulteriori controlli e in presenza di un patto di servizio sottoscritto e solo in caso di effettiva partecipazione alle attività richieste quindi per sfl non basta solo fare domanda e scriversi aver la domanda accolta finché non si partecipa a qualche corso di formazione qualche che ne so io è che ci sia qualcuno che dall'altra parte va a dirgli al sito internet dell'imps ok anzi più che dell'ins ministero del lavoro anche guardate che tizze caio che gli scrive il meno guardate che tizze caio stanno partecipando anche se quello accolto non partirà mai perché finché non c'è qualcuno all'interno di un corso di formazione non so la segreteria che segnala che il corso è partito finché non c'è l'abbienamento delle due questioni il pagamento di sfl non parte torniamo però ai nostri pagamenti i pagamenti dicono che seguono queste date calde perché anche qua allora primo per le domande inviate all'inps entro il 15 del mese e con soddisfacimento delle condizioni entro la stessa data il pagamento di norma di norma viene fatto dal 27 dello stesso mese secondo per le domande inviate nel corso del mese ma che maturano le condizioni dopo il giorno 15 ma comunque entro lo stesso mese quindi da 15 al 30 per capirci senza fare troppi giri di parole il pagamento di norma viene fatto dal 15 del mese successivo e adesso parliamo di reddito di cittadinanza rdc e tu dirai perché parli di rdc quando in realtà sto benedetto rdc è stato chiuso al 31 dicembre bene ascoltate questo che quello che vi devo dire parliamo ancora un momentino di rdc anche se in realtà è stato chiuso la carta rdc attenzione non è da buttare mi raccomando perché i soldi residui che eventualmente fossero avanzati all'interno della carta e che non sono stati spesi entro la fine dell'anno scorso 15 sicuramente c'è ancora qualcuno che ha la carta rdc perché nei commenti ci sono state persone che mi ha detto è sai ho usato la carta rdc per pagare una cosa questo me l'ha scritto l'altro ieri quindi vuol dire che c'è ancora gente che ha soldi sulla carta rdc quindi se i soldi non sono stati spesi entro la fine dell'anno scorso quindi sono ancora adesso potranno essere spesi né sempre nei mesi successivi rispettando la scadenza comunque indicata sulla carta rdc ha detto così si capisce poco ve lo spiego meglio sulla carta rdc se voi la prendete davanti sulla parte davanti quella gialla se voi la prendete sotto il numero della carta quel codice lungo di 16 cifre se non ricordo male sotto c'è una scadenza ecco quella è la prima scadenza che bisogna tenere a mente della carta scaduto passata quella scadenza la carta non vale più niente ovvio perché se è scaduta è scaduta però attenzione attenzione una cosa perché appunto a prescindere dalla scadenza come vi ho detto indicata sulla carta quella lì sotto tra qualche mese questa sarà la carta comunque sarà disattivata questo vuol dire che dopo aver ricevuto l'ultima ricarica se ci saranno dei soldi ancora all'interno della carta questi saranno poi successivamente ritirati e anche qui dice cosa che cosa vuol dire tutto questo ve lo spiego meglio si sta parlando del fatto che da luglio quindi dal primo di luglio è molto probabile che la carta verrà comunque comunque disattivata a prescindere dalla scadenza che vedete voi sulla carta ed eventuali soldi saranno ritirati dai da chi ovviamente dall'inps o dallo stato non so chi dai due comunque i soldi saranno ritirati quindi a questo punto è meglio spendere tutto quanto entro sei mesi quindi da gennaio al il 30 di giugno per non farsi ritirare i soldi voi non vi preoccupate perché come sempre io ve lo ricorderò ancora e ancora ancora perché non mi va che appunto questi soldi visto che ce li andati non vedo perché devono tornare indietro spendiamoci lì noi o adesso vediamo il bonus renzi sulla naspi i pagamenti del trattamento integrativo o bonus renzi per gli affezionados come me ma non per il discorso del nome perché me lo sono memorizzato così dovrebbero arrivare già dalla prima metà di questo mese quindi a partire dal giorno 9 ovviamente essendo bonus renzi su naspi cosa succede che parte dopo il pagamento della naspi è ovvio e poi per tutti i nuovi che si sono collegati la prima volta i pagamenti di questo bonus vanno avanti fino alla fine del mese potrebbe capitare una questione ecco visto che siamo comunque all'inizio dell'anno questa questa cosa potrebbe capitare quindi potrebbe capitare che il bonus non arrivi e questo mancato pagamento accade di solito perché il bonus 100 euro sull'anarti non è riconosciuto a tutti quanti durante durante l'anno ok perché ci sono persone che non hanno o comunque non raggiungono i limiti reddittuali minimi richiesti per poterlo ricevere e a questo punto dici come fai come faccio io a recuperarsi soldi se ne ho diritto e non me li danno come fai è semplicissimo c'è una soluzione anche qua l'unico modo è quello di ricordarsi di aver diritto o comunque ricordarsi che si prendeva il bonus renzi quello da 100 euro e quando poi ci sarà il momento di fare la dichiarazione dei redditi che tra l'altro ci stiamo avvicinando al periodo della dichiarazione perché tra un po e marzo quindi ci stiamo avvicinando ricordatevi e questo vale anche per l'anno scorso che se anche l'anno scorso non avete preso tutto il bonus renzi o meglio pensavate di averne diritto di riceverlo mi raccomando adesso che fate la dichiarazione dei redditi ricordatevi che c'è un campo apposito dove inserire il segnalare la percezione del bonus renzi ed è lì dentro che bisogna inserirlo se lo fate voi ricordatevi di fare quel passaggio se invece lo fate fare da un caff allora quando andate dal caff mettete un biglietto di ricordati recupero bonus renzi è da dall'anno scorso cassa integrazione chi sta ancora aspettando i pagamenti della cassa integrazione in deroga del fondo per l'artigianato o di qualunque altro tipo di cassa integrazione pagata però direttamente dall'inps deve controllare le date di accredito direttamente sul sito internet dell'inps all'interno del proprio cassetto previdenziale ricordatevi comunque che per tutti gli altri tipi di pagamenti che non sono gestiti dall'inps bisogna chiedere al proprio datore di lavoro pensioni inps beh allora quando uscirà questo video le pensioni di febbraio sono già state messe in pagamento e nella data è quella del primo giorno del mese bancabile tra l'altro che comunque è stata è stato il primo di febbraio ovviamente il discorso del pagamento delle pensioni cambia cambia per tutti coloro che le vogliono ritirare in contanti agli uffici postali e che quindi a quel punto devono seguire il calendario classico dell'ordine alfabetico per il ritiro della pensione carta acquisti o questo è il mese finalmente del pagamento della carta acquisti arriva a questo punto il pagamento della ricarica bimestrale della carta acquisti detta anche social card da non confonderci con l'altra carta quella carta che si chiama dedicata a te quella un'altra storia questa è la carta acquisti e la data della ricarica sulla carta parte dal giorno 15 del mese e poi risolviamo un'altra questione visto che comunque a gennaio c'è stato un problema con la carta acquisti per quanto riguarda il mese di gennaio me l'avete chiesto in tantissimi e tanto ma tanto lo sapevo già io adesso lo dico per da rinfrescarvi un po la memoria ricordatevi che siccome entro la fine del mese di gennaio bisogna rinnovare l'isee e questa carta è proprio legata all'isee quindi carta acquisti isee sono collegati i pagamenti di solito subiscono delle modifiche quindi nel mese di gennaio è facile che non tutti ricevano la ricarica o meglio non arriva la ricarica tu vedi un po che appena aggiorna l'isee che lo riceve l'inps guarda un po iniziano a partire i pagamenti quindi a gennaio si sa già che funziona così quindi se non avete ancora rinnovato di sé e soprattutto aspettate la ricarica della carta acquisti avete capito il motivo prima di concludere volevo parlarvi della carta dedicata a te lasciamo stare il discorso del reddito alimentare che avevano detto di questi pacchi di andare a ritirare non so più dove che c'era da mangiare dentro che hanno suscitato un sacco di polemiche poi boh l'hanno detto ma poi non l'hanno più fatto anche questa cosa prima lo dico poi non lo faccio la balanza raccontata di tutti i colori ma la carta dedicata a te e come ho detto non è da confondere con quell'altra la carta dedicata a te da 380 euro serve per l'acquisto di generi alimentari ed è destinata alle persone e famiglie che hanno determinati requisiti e vabbè e fino lì lo sappiamo ma non è tanto di questo che volevo dirvi quello che vorrei ricordarvi in realtà è che la carta intanto doveva essere attivata con un primo pagamento anche solo di un euro entro il 31 di gennaio 2024 quindi io spero spero vivamente che l'abbiamo l'abbiate fatto anche perché ho detto e stradetto e poi ricordatevi secondo che i soldi dovranno essere spesi entro il 15 di marzo quindi avete a disposizione ancora adesso non so quando guarderete questo video comunque avete ancora a disposizione tutto il mese di febbraio più 15 giorni di marzo mi raccomando non fatevi scadere anche questi soldi perché altrimenti se finisce se non li spendete anche questi tornano indietro allo stato e buonanotte sognatori quindi anche in questo caso non mi sembra il caso di far tornare indietro dei soldi che ci hanno dato meglio in tasca noi che in tasca a loro bene con questo è tutto quando ci saranno altre ulteriori novità nelle scadenze aggiornamenti pagamenti lo sapete ve lo farò sapere in un nuovo video diciamo che per adesso è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità a noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao grazie a tutti grazie a tutti